Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e ben ritrovati a una nuova puntata di Turbo Daily. Partiamo subito col dire che le borse ieri e non mi riferisco soltanto al Fuzzimib ma anche al DAX hanno avuto dei rialzi che non si vedevano da tempo, tra l'altro il trend già iniziato da qualche settimana sembra essere orientato piuttosto al rialzo, tuttavia sul Fuzzimib è successo un qualcosa di particolare che voglio vedere con voi direttamente dal grafico, quindi mi sposterei subito per vedere quanto è avvenuto, allora questa è la ripartenza molto forte sul giornaliero che abbiamo visto appunto nei mesi precedenti ebbene questo è un livello di massimo che era abbastanza importante che è stato violato proprio nella giornata di ieri, sostanzialmente che cosa è successo? I livelli di massimo sono stati rotti con forza, i prezzi sono saliti tantissimo ma oggi non abbiamo almeno quantomeno in apertura una conferma di questa forza, questa è la classica situazione nella quale a me piace operare contro trend, facciamo due parole innanzitutto l'operatività contro trend è più rischiosa quindi vi esorto eventualmente a scegliere un prodotto con una leva più bassa però in generale la mia idea è che in questa situazione laddove tutti magari quelli che erano short hanno chiuso le posizioni si è avuto un movimento a rialzo di questo tipo potrebbe darsi che il mercato abbia bisogno di recuperare, di rifiatare e quindi potrebbero arrivare degli ordini di vendita, in questo momento sembra che i compratori e i venditori si equivalgano però io ritengo che valga la pena insomma provare un'operatività a ribasso con rapporti rischio rendimento come potete vedere molto molto favorevoli quindi si rischia poco per cercare di andare a prendere quello che potrebbe essere un ritracciamento importante, rotto questo livello probabilmente il mercato potrebbe scendere forte, questo non avverrà nel giro di un giorno di due giorni ma potrebbe avvenire nel giro di qualche seduta di borsa, ovviamente tenete sempre a mente quello che sta avvenendo negli Stati Uniti si parla di inflazione si parla sono arrivate appunto le parole del governatore della Fed che però sembra siano state in qualche caso ignorate quindi staremo a vedere quello che succederà come fare questo tipo di trade beh è molto semplice andiamo sul sito investimenti.bnpparibas.it possiamo andare a selezionare quelli che sono i certificati a leva Turbo Certificate e andare nella selezione appunto di prodotti nello specifico io ho scelto un prodotto sul Futsimib e ho preso gli Turbo Unlimited perché? Perché sono dei prodotti di nuova generazione che non prevedono quella che è la scadenza quindi chiunque volesse andare a fare l'operatività su questi strumenti sa che non ha il problema della scadenza appunto del certificato quindi non deve chiuderlo per riaprirlo sulla scadenza successiva. Nello specifico io sono andato a prendere un prodotto che avesse una leva di circa 10 volte per sfruttare appunto quelli che sono i rapporti rischio rendimento favorevoli. Il nostro certificato è identificato dal codice ISIN NLBNPIT10LB7 e andiamo subito in piattaforma a vedere come fare questo trade quindi vabbè abbiamo inserito il nostro prodotto il prezzo in questo momento in lettera è 0,2250 il livello corretto per entrare su questo prodotto è 0,2180 quindi diciamo molto vicino ai prezzi che batte in questo momento comprando 4.500 pezzi si va a investire circa un migliaio di euro che equivale a dire l'equivalente appunto di un controvalore intorno ai 10.000 euro sul indice italiano di piazza affari quindi il FTSE MIB. Andiamo pertanto a ricapitolare quello che è il trade che abbiamo proposto nella giornata odierna si tratta di uno short sul FTSE MIB dal livello di 23.760 punti che è un livello importante in prossimità dei massimi che abbiamo visto nella giornata di ieri lo stop loss lo mettiamo circa al 2 e qualcosa per cento da questi livelli quindi a 24.250 punti il target price invece molto più ampio in ordine diciamo con un movimento di oltre il 5% a 22.450 punti ovviamente possiamo gestire la posizione nel caso dovesse il mercato andare nella nostra direzione in maniera molto veloce da parte di Enrico Lanati è tutto per oggi io vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento domani